UEFA Euro 2024 è anche un momento di saluto per alcuni giocatori. Toni Kroos che conclude la sua carriera avendo già annunciato qualche settimana fa che con l'Europeo si sarebbe ritirato nel momento giusto con l'ultimo pallone toccato proprio da lui, crossandola male in aria nel 120esimo ed oltre nel supplementare anzi con un recupero anche troppo lungo da parte dell'arbitro Taylor un Kroos sbagliato che finisce tra le mani di Unai Simone e si spegne così la carriera di un grandissimo calciatore dall'altra parte poco dopo si chiude anche la carriera di un Pepe che ha fatto una prestazione impressionante dominante e impeccabile fino all'ultimo secondo di una partita che certo non è stata avvincente però poi c'è la parentesi Cristiano Ronaldo che a differenza di questi altri due non ha ancora capito che è il momento di smettere Toni Kroos si ferma prima di andare a calare di rendimento, è ancora un giocatore di livello stratosferico, è ancora un giocatore fortissimo non sembra che debba ritirarsi però ha deciso così con magari un paio o tre anni di anticipo rispetto alla sua naturale scadenza e quindi merita assolutamente un applauso grazie Toni Kroos per tutto quello che hai fatto nel calcio e che hai deciso di interrompere proprio sul più bello anzi nel momento migliore, nel momento ancora in cui non hai iniziato a calare questa è la cosa più importante, questo è il grande insegnamento di valore dello sport del calcio e di rispetto per se stesso e per gli altri che Toni Kroos ci consegna quindi al di là dell'eliminazione della Germania, al di là del fatto che andava espulso in questa partita contro la Spagna per troppi falli da giallo che non sono stati sanzionati al di là di quell'ultimo errore, di quell'ultima palla lui che ne ha fatti tanti di calci di punizione, di calci d'angolo con le sue Eleven Questra in esclusiva Adidas che non ha mai abbandonato un giocatore che non si è assolutamente concesso all'evoluzione commerciale delle scarpe da calcio lui ha voluto restare con quelle lì e le ha fatte produrre in esclusiva dall'Adidas solo per lui e con la versione dorata dedicata proprio a questi europei di Germania non vinti da Toni Kroos, sarebbe stato un epilogo fantastico Toni Kroos campione d'Europa ancora dopo la Champions anche dell'Europeo con la Germania nell'Europeo di casa ma non è andata così e quindi proprio le ultimissime, gli ultimissimi scarpini di Toni Kroos però appunto questo è il grande valore che ci insegna, il grande insegnamento cosa che dall'altra parte invece non è stato capace per ora di fare Cristiano Ronaldo ci riesce Pepe che è ancora molto più avanti con l'età anche Pepe avrebbe potuto ritirarsi molto prima però almeno nell'esagerare, nell'andare a giocare fino a 40 anni Pepe è ancora in condizioni stratosferiche ha fatto un duello incredibile con Thuram, freschissimo, appena entrato certamente giovane, è riuscito a tener botte in maniera incredibile poi quanti tiri respinti, recuperi difensivi, intercetti, anticipi in questa partita, in questa sua ultima partita di calcio giocato contro la Francia eliminato anche il Portogallo quindi sembra quasi che quelli che si ritirano ecco, vengano anche fatti ritirare proprio da, non per aver vinto e quindi per essere andati in trionfo ma per un'eliminazione quindi sembra che ci sia qualcun altro a decidere che debbano smettere di giocare in quel momento la Spagna per Toni Kroos proprio la Spagna, proprio la Spagna per Toni Kroos e la Francia per Pepe ma se così fosse allora l'eliminazione del Portogallo avrebbe comportato anche il ritiro di Cristiano Ronaldo che per la verità saranno un paio d'anni che avrebbe fatto meglio a smettere sì, sicuramente l'Arabia Saudita sta segnando sta ancora giocando ad alti livelli per certi aspetti ma non è più un Cristiano Ronaldo degno di questo nome ed infatti, fine di un'era, conclude un europeo con cinque partite senza segnare lo straccio di un gol a parte i rigori nella lotteria dei rigori ma ovviamente quelli non contano che cosa è successo allora a Cristiano Ronaldo che tra l'altro in questa partita contro la Francia è stato veramente l'anello debole è stato veramente l'elemento di distruzione del gioco del Portogallo perché tantissimi cross da parte del Portogallo finiti quasi tutti male quasi nessuno a destinazione perché Cristiano Ronaldo faceva i movimenti sbagliati non veniva incontro al pallone non si smarcava, non si proponeva e quindi andava a fare movimenti e contro movimenti anche sbagliati in relazione a quelli che erano i compagni in area di rigore insomma, tanto sforzo offensivo sprecato dal Portogallo per colpa di Cristiano Ronaldo e non è la prima partita non dimentichiamo che contro la Slovenia si è intestardito a battere tutti lui i calci di punizione creando anche pericoli ma non riuscendo a segnare e si è intestardito anche nel giocare in un certo modo anche in quel caso catalizzando male il gioco di un Portogallo che senza Cristiano Ronaldo probabilmente si esprimerebbe meglio anzi togliamoli probabilmente e colpa anche di Martinez che non se l'è sentita di togliere Cristiano Ronaldo per far entrare magari Diogo Giota grida vendetta quel cambio non fatto mentre Leao si è potuto togliere e va bene, magari Leao che ha fatto una buonissima partita poteva anche essere stanco c'era anche il discorso rigori ma se tu fai i cambi in funzione dei rigori quando sei ancora all'inizio dei supplementari nel cuore ancora del calcio giocato vuol dire che stai giocando per non perdere e non per vincere allora meriti di andare fuori e Cristiano Ronaldo in questo europeo ha colpito anche per le lacrime per aver sbagliato il rigore in partita contro la Slovenia come fa un giocatore con tutti quei soldi con tutta quella visibilità con tutto quel successo che ha ottenuto tutto quello che ha ottenuto ad essere ancora così emotivamente coinvolto e addirittura a piangere davanti a milioni di persone per un rigore sbagliato è davvero da studiare Cristiano Ronaldo dal punto di vista psicologico per quello che ancora sente per quello che ancora vuole fare per quello che ancora pensa di essere e per il motivo per cui ancora non ha capito che avrebbe dovuto smettere tempo fa quando è che Cristiano Ronaldo capirà di essere scaduto pure lui come calciatore quantomeno per un discorso di amor proprio di onore verso se stesso di dignità perché può ancora fare cose straordinarie rispetto a tantissimi altri calciatori ma sempre molto inferiori rispetto al livello di Cristiano Ronaldo l'ha capito Kroos anzitempo l'ha capito Pepe con un po' di ritardo ma ancora con dignità non l'ha capito ancora Cristiano Ronaldo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti